Salve, sono Flavio Fanelli, ingegnere, titolare dello studio Tridans. Uso Axis dal 2006 quando abitavo in Spagna, quando mi sono trasferito in Italia circa dieci anni fa, dopo aver valutato anche altre soluzioni, ho deciso di continuare con Axis che è un programma affidabile, è un programma che dà risultati molto interessanti ed è molto intuitivo e innanzitutto ha un servizio post vendita ottimo. La nostra società progetta e costruisce strutture in acciaio innanzitutto nel settore dei magazzini, tutto quello che facciamo, o il 90 per cento di quello che facciamo, ci può trovare nel mondo dei magazzini industriali. L'anno scorso un progetto molto interessante è stato il consolidamento sismico dei magazzini per l'avigliamento della Max Mara. Con Axis abbiamo avuto l'opportunità di raggiungere un progetto molto interessante che ha soddisfatto il cliente e sostanzialmente già portato un risultato ottimo. Grazie.